Tamponamento fra tre auto con due donne rimaste ferite e trasportate in ospedale in ambulanza in via San Giovanni Bosco. L'incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi. L'allarme è scattato subito ma per i soccorsi e le forze dell'ordine non è stato facile raggiungere rapidamente la via San Giovanni Bosco trattandosi di una strada stretta e a senso unico. In pochi istanti infatti si è creato un serpentone di automobili che provenivano dai due lati di via Redentore da via Amico Valenti e solo dopo parecchi minuti le ambulanze del 118 sono riuscite a farsi largo nel traffico e a raggiungere il luogo dell'incidente. Le due donne ferite sono state soccorse, a una è stata applicata anche un collare protettivo e subito l'ambulanza si è diretta verso l'ospedale Sant'Elia, seguita poco dopo da un altro equipaggio che a soccorso la seconda donna è rimasta ferita. Entrambe erano coscienti al momento dell'arrivo del 118 e le loro condizioni non sembravano gravi. Sul posto nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri insieme all'equipaggio di una volante della polizia. I militari dell'arma hanno identificato i conducenti delle auto ed eseguito i primi rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell'incidente.